Il numero degli ospedalizzati e quello dei positivi in generale sono in calo, confermando il lieve trend favorevole sull'incidenza del virus in Abruzzo. Oggi sono 85 nuovi contagiati, d'età compresa tra 1 e 98 anni. Ha dato esito positivo il 2,5% dei 3.353 tamponi molecolari processati nelle ultime ore. L'aumento del totale di casi di contagio è oggi maggiore in provincia dell'Aquila, ne sono 30 in più. Seguono il Teramano e il Chietino con rispettivamente 27 e 20 casi, altri 4 sono invece in provincia di Pescara e altrettanti riguardano persone non residenti in Abruzzo. Cinque decessi avvenuti nelle ultime ore portano il bilancio delle vittime a 2.420. Considerando anche i 325 guariti, i positivi in Abruzzo sono attualmente 8.366, 246 in meno rispetto a ieri. Di questi, 349 pazienti, 11 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 26, 8 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia intensiva. Nei reparti di rianimazione non c'è stato alcun ricovero Covid nelle ultime 24 ore. Gli altri 7.991 positivi accertati, 227 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Gli altri 8.991 positivi accertati, 227 in meno rispetto a ieri, Gli altri 8.991 positivi accertati, 227 in meno rispetto a ieri,